Grazie. Con riferimento alla TAV sono, come sapete, delle ore decisive. Ci sono in corso delle interlocuzioni politiche e tecniche, anche alla luce delle diverse sensibilità su questo tema. E come è noto, il Presidente del Consiglio si è assunto la responsabilità di dirimere la questione in base all'analisi costi-benefici redatta dal Ministero dei Trasporti. Con questa interrogazione mi viene chiesto di rispondere sulle iniziative da intraprendere per contrastare le possibili ricadute negative derivanti da un eventuale blocco dei cantieri. Quello che ci interessa su questa vicenda è prendere la scelta migliore per i cittadini italiani e tutelare l'interesse nazionale. Ma il Governo non sta aspettando una decisione sul TAV per fare gli investimenti, per far partire i cantieri, per creare lavoro. Proprio in quest'ottica sono state adottate tutte le misure di questo Governo a sostegno delle infrastrutture, nonché delle imprese. In particolare, ricordo che è stato istituito un fondo di investimenti centrale, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire tra le varie amministrazioni con una dotazione di 43,6 miliardi dal 2019 al 2033. Per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali è stato istituito un fondo con una dotazione totale di 36,6 miliardi di euro dal 2019 al 2034. È stato previsto lo stanziamento di circa 250 milioni in cinque anni per la manutenzione dei ponti del Po.